ciao ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale auguro un felice buon anno a tutti sono qui con la mia prima creazione dell'anno faremo insieme questi orecchini per il momento nome non c'è ma poter vederla meglio dimostro in una seconda versione che utilizzerò il colore per il tutora faremo insieme questa orecchini ora dimostrerò i materiali che occorrono e iniziamo subito con il tutorial per realizzare gli orecchini partiamo con i rivoli che occorre 12 mm rivoli da 12 mm bicono da 4 mm bicono da 3 mm servirà in palline mini che vu che vron 2 poi occorrerà obet super duo miyuki roccal 80 serve solo uno per inserire poi gli anelli per la base roccal 11 0 miyuki e sempre 15 0 miyuki ora iniziamo con il tutora ho infilato sul mio ago già venti rocca 11 0 ora potere portiamo fino giù della fine del filo utilizzo un po filo lungo perché ci sono passaggi in fi dobbiamo poi ripassare prima di ripassare voi anche il filo che non ho mostrato scusate utilizzando i miyuki numero 3 bene ora ripassiamo da dietro in tutte le perline della rocca ora che avete ripassato dovete andare chiudendo l'elaborazione bene chiuso l'elaborazione al cerchetto uscendo dalla rocca andremo inserire su ago due rocca 11 0 un bicono da 32 rocca 11 0 e andrò inserire nella successiva della successiva della rocca saltando 3 rocca quindi inserisco di nuovo le mie perline quindi uscendo dalla rocca di nuovo inserite due rocca un bicono da 32 rocca e come prima saltate 3 rocca andrò inserire nella successiva e tirate i filo e continuiamo ad andare avanti così quindi di nuovo inserite le mie due rocca un bicono due rocca e vado avanti salto 3 rocca andrò inserire nella successiva ok questo dovete ripetere per altre due volte per completare il giro ok completato inserire le mie perline quindi come vedete uscendo dalla bicono ora dovete inserire su ago 5 rocca 11 0 andare inserire nella picono successiva quindi uscendo di nuovo da picono andremo inserire di nuovo 5 rocca 11 0 e come prima andremo inserire nella picono successiva dimostra ancora un'altra volta che uscendo da picono inseriamo 5 rocca 11 0 e andremo inserire nella picono successiva ok questa dovete ripetere altre due volte ok completato inserire le mie cinque rocca e come avrei detto uscito avanti andato avanti uscire della prima 3 della rocca ora andremo inserire 3 rocca 11 0 su ago e andremo inserire subito subito dalla terza rocca successiva della terza rocca successiva della rocca 11 0 quindi andremo inserire di nuovo 3 rocca 11 0 su ago inseriamo 3 rocca 11 come prima andrò inserire direttamente nella terza rocca della 11 bene inserire di nuovo 3 rocca 11 0 bene inseriamo di nuovo la 3 rocca 11 0 bene inseriamo di nuovo la 3 rocca 11 0 andiamo avanti inserire nella terza rocca della non so 11 0 ok ok ancora dovete farlo questo passaggio per altre due volte finché non avrete completare inserire in tutto giro queste 3 rocca ok inserite anche là l'ultima ora andiamo a prendere il nostro rivoli da 12 mm quindi andremo applicare al centro della lavorazione prima non stringete prima del inserire rivoli perché poi non riuscite ecco una volta che avete inserito al centro della lavorazione allora potete tirare il filo una volta che tirata il filo allora consiglio di ripassare nella lavorazione perché deve mantenere i nostri rivoli ok adesso che abbiamo fissato al nostro rivoli centro della lavorazione dobbiamo risalire uscire della bicono da 3 quindi risaliamo uscire dalla bicono da 3 bene ora andremo inserire la seguente per linee ora dovete inserire sul vostro lago un obet un chieb questo di strana nome che ho mamma mia quindi questa che vuole 2 che vuole 2 vi conto da 3 un'altra che vuole 2 è obet in questo modo come ho inserito io la che vuole 2 il primo va inserito da dietro dalla parte bombata ecco la seconda della parte curvata e ora andremo inserire nella bicono successiva della 3 mm cioè inseriamo nella bicono dovete trovarla così non preoccupare perché tanto dovete ripassare la lavorazione quindi puoi tenere bene quindi ricominciamo inserire alle nostre perline quindi inseriamo di nuovo la perline obis che ron 2 bicono da 3 che vuole 2 e obis e quindi andremo inserire nella bicono successiva ecco questa lavorazione voi dovete fare in tutto giro una volta che avete inserito le vostre perline consiglio di ripassarlo ok io ho ripassato una volta nella lavorazione mi raccomando dovete fare attenzione perché questa lavorazione va un po' ripassata più volte ora uscendo dalla obis andate ad inserire un piccolo da 3 mm e come ho detto dobbiamo ripassare di nuovo inseriamo nell'obis e quindi attraversiamo di nuovo nelle perline perché sempre dobbiamo uscire poi nella obis e quindi uscire da obis quindi uscendo di nuovo da obis prendiamo il nostro bicono da 3 mm e di nuovo andremo inserire nell'obis e quindi attraversiamo nel resto della perline ok quindi prendo il mio bicono da 3 mm e di nuovo inseriamo tra obis attraverso il resto della perline per uscire poi di nuovo dalla obis inseriamo ancora il nostro bicono da 3 mm su lago ecco qua inserisco di nuovo il mio bicono e andro inserimi nella successiva del obis quindi ancora dobbiamo attraversare inserire il nostro ultimo bicono ok quindi vado inserire anche l'ultimo mio bicono bene ok inserita anche la ultima bicono ora cosa facciamo esco da chevo esco da chevo fa se volete questo giro andate ripassate io questa volta non ripasso quindi uscendo da chevo io me lo giro a lavorazione andremo e portiamo in foro un alto della della nostra chevo chevo da quindi ora inserisco due obis sul mio ago e andro inserirmi tra questa chevo ora andro inserire seguente per linee ora inserisco un local 11 0 vado inserimi sempre in alto foro della nostra chevo quindi inseriamo di nuovo due obis e sempre inseriamo nel foro altro il nostro chevo adesso di nuovo 1k due super 2 1k andro inserimi nella chevo in alto foro bene ecco questa perline dovete inserire in tutto giro per completare e quindi poi consiglio di ripassare nella lavorazione ok inserite le mie perline ripassato nella lavorazione e come vedete uscendo dalla due obis dalla due obis ora inseriamo sul nostro ago un rocal 15 0 il piccolo da 4 mm e ancora un'altra rocal da 15 0 quindi andro inserimi in alto foro della nostra super duo ora soltanto un rocal 11 0 che va inserito tra il nostro super 2 inseriamo di nuovo il nostro palline un 15 subito allora un 15 un piccolo da 4 un 15 andro inserimi nella mia obis quindi uscendo da obis andremo inserire di nuovo le nostre palline quindi inserisco di nuovo un 15 0 e andro inserimi in alto foro della nostra super duo ora soltanto un rocal 11 0 inserimi nell'altra parte altro foro e questa adesso ricominciamo di nuovo con la 15 0 con il nostro piccolo da 4 inseriamo di nuovo la 15 piccolo 15 e inseriamo nella hobbit da hobbit di nuovo un 15 un piccolo quindi di nuovo un 15 un piccolo un 15 e vado inserimi nell'altro foro della mia superduo qui invece inseriamo un rocal 11 0 ecco qua come vedete questa va avanti così finché non avete completato inserire le vostre perline in tutto giro ok inserite le mie perline ma non ancora ripassata nella lavorazione quindi portate a uscire da uno da 11 0 che si trova tra il nostro superduo quindi faremo il nostro cappettino per la base dell'orecchino quindi inseriamo un 11 0 un 8 0 un 11 0 il nostro ago andremo a ripassare da dietro da questa 11 0 bene questo è il nostro cappettino ora consiglio di ripassare nella lavorazione anche questa meno due volte per ben tenerla una volta che avete ripassato potete cominciare ripassare nella lavorazione questi ultimi passaggi che abbiamo fatto quindi una volta che ripassata il vostro ricchini è terminato ora andrò anche io a ripassare la lavorazione e ci vediamo dopo ed ecco qua ho chiuso la lavorazione ripassata nella lavorazione ho chiuso la lavorazione quindi come vedete la mia base scusate la mia base ho inserito nella 8 0 e quindi abbiamo terminato i nostri orecchini spero che ti piace e cercate seguire realizzare un po' le mie creazioni e se ti piace per favore lascia il tuo commento perché ultimamente non vedo nessun commento nel mio tutorial purtroppo abbandonato da tutti ma non c'è problema io condividerò con voi continuo a condividere con voi le mie creazioni per rendervi felice a chi piace sai dire le mie tutorial ecco oggi volevo farti rendere felice con questi orecchini ora vi saluto e ancora auguro un felice buon anno a tutti ciao ciao